Siracusa anti-covid mattanza carabinieri, sei denunce, tre assuntori segnalate e numerose sanzioni. Nell'ambito delle misure anti-covid, i carabinieri della compagnia di Siracusa hanno svolto all'inizio della settimana in corso un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a garantire la pubblica sicurezza e in particolare rispetto alle restrizioni attualmente in vigore. Nel corso delle attività, che hanno visto l'impiego di numerose pattuglie sulle strade del territorio di competenze militari, hanno controllato un totale di 143 soggetti e 119 veicoli di vario tipo, elevando sanzioni nei confronti di 10 soggetti sorprese a circolare fuori dal comune di residenza o durante gli orari del coprifuoco, per un totale di circa 5.000 euro. Tre soggetti sono stati anche segnalati alla Prefettura, quali assuntori di sostanze stupefacenti, essendo stati trovati in possesso di un totale di circa 6 grammi, sottivisi in dose di cocaina e hashish. Il servizio ha portato inoltre ad riferimento al stato di libertà di 7 persone in circostanze diverse, un siracusano 36enne e un altro 48enne, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, per avere perpetrato in concorso tra loro un furto aggravato in un supermercato. I due infatti, dopo aver sottratto merce di varia natura all'interno dell'esercizio commerciale, hanno tentato di allontanarsi velocemente ma sono stati poco dopo fermati dai carabinieri che erano stati avvisati del furto dal personale di vigilanza. Dopo la denuncia, la refurtiva è stata restituita all'esercizio commerciale. Una siracusana 28enne incensionata presso la cui abitazione è stato riscontrato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Il personale della società elettrica che ne gestisce l'utilizzo ha infatti verificato che il contatore era stato monomesso per sottrarre così indebitamente l'energia elettrica e a zerare le rilevazioni dei consumi. Ancora un siracusano 31enne, complicidente per vari reati, sorpreso sulla pubblica via in possesso di un coltello a serramanico che è stato contestualmente sequestrato. E' ancora un giovane nettino incensurato denunciato per riscettazione per essere stato trovato in possesso di due cellulari risultati rubati e che successivamente sono stati restituiti a legittime proprietari. Un 38enne siracusano denunciato per evasione poiché sorpreso dai carabinieri fuori dalla sua abitazione priva di qualsivoglia autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria sebbene fosse sottovosto al regime degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.